Buonasera, ben ritrovati. È un appuntamento che fa bene sia per chi lo prepara che per chi lo ascolta. Una tavola della parola in cui prepararci anche nelle letture, nella liturgia della parola di domenica prossima. Una liturgia della parola che prima che essere celebrata va anche interiorizzata, che possa essere davvero gustata nella sua bellezza e nella sua profondità. E tanto più domenica prossima in cui dopo aver celebrato insieme la bellissima solennità di Pentecoste o nel cuore e la celebrazione all'aperto di domenica scorsa ci apprestiamo come chiesa a celebrare una domenica che non è una domenica del tempo ordinario ma che vuole fare vivere una riflessione attorno a Dio Trinità. È la festa della Santissima Trinità. Le radici di questa festa sono radici medievale antiche dell'undicesimo secolo e portano nel cuore un'anima tedesca grazie a San Bonifacio e Anglosassone grazie ai monasteri inglesi che festeggiavano appena subito dopo Pentecoste, la settimana successiva, è una festa dedicata al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. È un cammino, un percorso che porta a riconoscere e a poter riflettere e accostarsi davanti al mistero di Dio un Dio che non è solitudine, che è un Dio unico ma che la sua unicità non corrisponde con la solitudine un Dio di comunione, un Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, un Dio di relazione, un Dio in cui noi cristiani possiamo intravedere il volto di Gesù Cristo che si affida al Padre, che dona allo Spirito. La liturgia della parola è particolarmente significativa e particolarmente bella perché va a toccare elementi essenziali nelle pagine dell'Antico Testamento con il libro dell'Esodo, la prima lettura. Il Salmo non è usato dal Salterio ma viene preso dal libro di Daniele, è il cantico dei tre giovani nella fornace presa dal libro del profeta Daniele e la seconda lettura è la conclusione della seconda lettera di San Paolo Opposto alle Corinzi. Per poi il Vangelo ci fa prodare a quel dialogo fondamentale tra Nicodemo e Gesù in quella notte in cui ha soffiato lo Spirito. Ma se andiamo a vedere la prima lettura andiamo a scoprire una delle pagine più intense, più belle del libro dell'Esodo. Ci troviamo nel capitolo 34 in cui allargando un attimo lo sguardo abbiamo visto che nel capitolo 32, due capitoli precedenti, avviene il peccato per Antonomasia per Israele. Israele, il popolo, non riconosce più in Mosè la guida, lo sente lontano, non sta ritornando giù dal monte con le dieci parole, con le due tavole e allora chiede ad Aronne di poter fondere tutto il metallo e di costruirsi un idolo. Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, fece ressa attorno ad Aronne e gli disse Fa per noi un Dio che cammini alla nostra testa, perché a Mosè, quell'uomo che ci hai fatto uscire dalla terra d'Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto. Leggiamo nel primo versetto del capitolo 32 e è l'esperienza del vitello d'oro. L'Esodo, il passaggio della libertà, il passaggio di un popolo, l'affidamento ad un Dio di Israele che hanno visto nei segni, nelle dieci piaghe, che hanno visto in una colonna di fumo, eppure Israele si volta indietro, all'idolatria nel cuore. La vera libertà avviene quando un popolo riesce a togliere quell'Egitto che era dentro di sé e riesce a togliersi quel vitello d'oro che tenta sempre di costruirsi. Ed è interessante perché sono tre le ripartenze che troviamo nella Bibbia. C'è una ripartenza con Noè. Dio si pentì del creato e del male che ha cominciato a salire dalla terra e nel diluvio vi è una ripartenza per l'intero creato. Vi è una ripartenza anche nella regalità. Dio si pentì di Saul e allora ha fatto sì che Samuele consacrasse Davide come re. E la terza pentimento è quello di fronte a un popolo. Dio si pentì di quel popolo perché si era costruito un vitello con il metallo fuso. È una ripartenza. E la pagina del capitolo 34 che ascolteremo domenica sarà anche una ripartenza del nome. Ricordiamo che nel libro dell'Esodo è fondamentale soprattutto il terzo capitolo in cui Mosè, straniero in Madian, incontra Dio, quel Dio di Israele, il Dio di Abramo, di Esacco e di Giacobbe in un rovetto ardente e lì si fa rivelare il suo nome. E come in questo grandissimo arco narrativo ritorniamo al capitolo 34 in cui dopo questa ripartenza per un intero popolo dopo la ferita di un'idolatria Dio riconsegna a Mosè il proprio nome. Ecco perché è stata inserita come una liturgia nella liturgia della parola, della festa della Trinità. Il problema del nome di Dio è il problema fondamentale e perché è un problema che riguarda l'identità stessa del Dio che seguiamo. E infatti al capitolo 32 Mosè spezzerà le tavole della testimonianza un popolo sarà senza parola di Dio poi il capitolo 33 vi sarà dato l'ordine a ripartire e dal versetto 7 del capitolo 33 Dio entrerà nella tenda del convegno e sarà una tenda mobile che attraverserà l'intero deserto. Per poi Mosè pregare e sul monte incontrare il Dio non lo potrà vedere volto a volto ma lo incontrerà Dio solamente di spalle. Per poi arrivare alle due nuove tavole di pietra non ancora incise dalle parole di Dio con cui Mosè sale e appare a Mosè. Leggiamo infatti il capitolo 34 nei versetti che poi saranno proclamati domenica prossima. Mosè tagliò due tavole di pietra come le prime si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai come il Signore gli aveva comandato con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese dalla nube si fermò là presso di Lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a Lui proclamando il Signore, il Signore Dio misericordioso e pietoso lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà che conserva il suo amore per mille generazioni che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato ma non lascia senza punizione che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e la quarta generazione. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò disse se ho trovato grazia ai tuoi occhi o Signore che il Signore cammini in mezzo a noi sì, è un popolo di dura service ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato e fa di noi la tua eredità. Esperienza fondativa all'Esodo per un popolo ogni popolo, ogni nazione, anche noi abbiamo bisogno di un racconto fondativo che possa fondare la nostra esistenza anche a livello personale, anche a livello intimo anche a livello familiare occorre l'esperienza di un racconto fondativo che possa essere questo racconto rinarrato la funzione del racconto è quello di non rimanere là ma di poter essere narrato ai propri figli alle generazioni successive di generazione in generazione rielaborato, riappropriato e che diventi parte integrante della propria esistenza così è l'Esodo un racconto fondativo che può essere rielaborato rinarrato di generazione in generazione il vero racconto è quello che si può trasmettere che si può raccontare di nuovo che si può trasformare che si può arricchire perché corrisponde all'esperienza di ogni generazione ecco allora un racconto che non è un racconto perfetto ma che narra appunto di una storia di peccato in cui il perdono entra come nome stesso di Dio una pagina di una tenerezza infinita una pagina in cui viene a cadere quel stereotipo che abbiamo che le pagine dell'Antico Testamento sia nelle pagine di un Dio vendicativo di un Dio degli eserciti di un Dio guerriero di un Dio che punisce il nome stesso di Dio incontriamo nel capitolo 34 dell'Esodo è misericordioso e pietoso lento all'ira e ricco di misericordia è il nome più bello di Dio che il Nuovo Testamento farà proprio ed altro elemento essenziale nel racconto è che l'esperienza deve essere abbastanza larga deve integrare elementi vari quindi è un'esperienza che tutti noi possiamo vivere quella del fallimento dell'aver tradito di esserci fatti un Dio a nostra immagine e somiglianza di aver fuso con dei metalli per avere un Dio di sicurezza con cui essere sicuri di poter essere a posto con la nostra coscienza ecco in questa esperienza ci possiamo ritrovare tutti quanti e c'è un elemento fondamentale in questo capitolo e nel libro dell'Esodo che è l'esperienza di liberazione è un Dio che libera è un Dio che chiama libertà e un secondo elemento oltre alla libertà è che il popolo di Israele liberato da Dio appena uscito dall'Egitto entra nel deserto ed entra nell'alleanza con Dio entra nella parola di Dio nel deserto Midbar dove la parola non c'è la parola diventa parola fondativa dell'alleanza con Dio Dio offre a Israele di entrare liberamente in alleanza e il popolo può liberamente accettare Dio come suo Dio ed entrare in alleanza non è un'alleanza imposta è un'alleanza di libertà che come abbiamo visto nella falsa ripartenza presuppone anche che si possa fallire nell'alleanza stessa e la storia di Israele è una storia che integra colpa e perdono cioè l'esperienza della debolezza umana è una delle forze del racconto biblico non sono narrati degli eroi non è narrato un superpopolo non è narrata un'epopea non è narrata una gesta di una semidivinità come il popolo di Israele è narrata una storia umanissima di debolezza di fallimento di peccato di non aver riconosciuto il volto di Dio ed è proprio questo integrare nella sua trama la debolezza l'imperfezione umana e la risposta divina a questa imperfezione che fa del racconto biblico un racconto vitale fondamentale quindi non è soltanto un racconto di eroi non è un'epopea di perfetti è un'epopea di deboli dei peccatori e già nel racconto c'è la colpa la purificazione il perdono e Dio che ha concluso un'alleanza col proprio popolo ha visto che il popolo infedele all'alleanza la rompe è in questa dinamica di colpa e riconoscimento del peccato che Dio rivela quel nome inaccessibile Dio non potrà mai essere nominato ricordiamo nel capitolo secondo della Genesi che Dio dà facoltà ad Adamo di dare nome a tutto l'universo dall'atomo alle galassie dall'infinitamente piccolo all'infinitamente immenso ma è il nome di Dio non nominarlo è un nome che viene velato e nascosto in un tetargramma sacro in quattro lettere per dire io sono colui che ci sarà io sono presente nella tua storia e nel capitolo 34 questa inaccessibilità del nome viene rinforzata da questa polarità di giustizia e misericordia che camminano insieme e mi capite bene che in questa polarità di giustizia di misericordia di fedeltà e di verità di tenerezza e di una verità che possa accompagnarci vi è lo spazio per intravedere già un Dio che non è solitudine che non è solo l'inaccessibile è un Dio presente nella vicenda antropologica fondamentale di ognuno di noi infatti nel capitolo 34 Dio rivela il suo nome per la seconda volta l'aveva già rivelato nel capitolo terzo del libro dell'Esodo e si rivela come il Dio di misericordia e di perdono la vita l'esistenza di Israele è fondata sull'esperienza del perdono e il Dio che accompagna a partire dal Sina il popolo di Israele attraverso il deserto è il Dio del perdono quindi abbiamo due elementi essenziali il primo è un racconto di liberazione è un'esperienza di liberazione e il secondo elemento è che è un'esperienza di misericordia e di perdono con i termini più belli il Signore il Signore Dio misericordioso e pietoso e misericordia riguarda le viscere di madre è il grembo materno è l'utero anatomico è un Dio dalle viscere di madre di una pietà lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà chesed la pietà la fedeltà la parola che racchiude in sé una polifonia di tenerezza infinita ed è fedele è il Dio fedele anche nell'infedeltà di un popolo stesso è il nome di Dio un nome che è Trinità e quindi è un nome che porta con sé anche la possibilità che possa essere d'accompagnamento per l'intero popolo allora è una pagina che ci sorprende perché ci dimostra anche un Dio che cammina e anche questa è una rivoluzione da sempre nella cultura politeistica nella cultura egiziana nella cultura babilonese nella cultura ellenistica in cui il dato biblico si è inserito il popolo ognuno doveva andare al tempio a placare l'ira della divinità per poter ottenere un qualcosa che potesse riguardare la propria vita come un termine di fortuna e di quasi placare l'ira divina ora invece in questo capitolo del 34 dell'esodo troviamo non più un tempio ma una tenda una shekinah qualcosa di femminile che riguarda Dio un Dio che accompagna il proprio popolo che cammina con il proprio popolo non più un popolo che va al tempio per placare Dio ma una tenda che accompagna il popolo nella sua misericordia e nella sua fedeltà è la rivoluzione del Dio biblico un Dio al di fuori del tempio presente in una tenda in una tenda del creato stesso e ci fa intervedere che allora questa pagina è una pagina che richiamerà un'esperienza fondativa per Israele stessa un popolo che ha perduto il tempio che il tempio è stato incendiato che è stato messo a rogo e che dopo che il tempio è stato bruciato insieme alla città di Gerusalemme ha vissuto l'esilio si intravede in questo Dio che cammina con il popolo una profeta Ezechiele che porta con sé la gloria di Dio che compagna il popolo stesso vedere Dio significa seguire Dio e questo sarebbe uno dei modi per riassumere tutta l'esperienza dell'esodo Dio cammina con il suo popolo lo accompagna e lo guida nel deserto e se Israele vuole vedere Dio deve seguirlo e se non lo segue lo perde se si ferma e si rifiuta di andare avanti e che è quello che vuole fare tante volte e soprattutto si rifiuta di salire verso la terra promessa deve tornare indietro verso l'Egitto dove ci sono le cipolle la carne o meno molto più interessante di quello del deserto e là Israele perderà il suo Dio non lo può vedere l'unico modo per vedere Dio è seguirlo è mettersi in cammino vedere Dio significa seguire Dio è una bellissima pagina che ci fa intravedere un Dio che cammina un Dio di liberazione un Dio di misericordia e di fedeltà un Dio dai molteplici volti dagli infiniti nomi che possono solamente balbettare l'infinito nome di Dio il non accessibile nome di Dio ma che già introducono già nell'Antico Testamento la possibilità di un Dio che pur nella sua essere uno non è solitudine è legato profondamente all'esperienza umana di un popolo e anche soprattutto nell'esperienza del fallimento e del peccato ma andiamo al Salmo che diventa il Cantico di Azaria e Misaele e i compagni nella fornace Daniele 3 49 56 e l'angelo del Signore che era sceso su Azaria e i suoi compagni nella fornace allontanò da loro la fiamma del fuoco della fornace e rese l'interno della fornace come se vi soffiasse dentro un vento pieno di rugiada così il fuoco non li toccò affatto e non fece a loro alcun male non diede loro alcuna molestia allora quei tre giovani a una sola voce si misero a lodare a glorificare a benedire Dio nella fornace dicendo ed è quello che ascolteremo domenica benedetto sei tu Signore Dio dei padri nostri degno di lode e di gloria nei secoli benedetto il tuo nome glorioso e santo degno di lode e di gloria nei secoli benedetto sei tu nel tuo Tempio santo glorioso degno di lode e di gloria nei secoli benedetto sei tu sul trono del tuo regno degno di lode e di gloria nei secoli benedetto sei tu che penetri con lo sguardo agli abissi e siede sui cherubini degno di lode e di gloria nei secoli benedetto sei tu nel fermamento del cielo degno di lode e di gloria nei secoli. È una benedizione cosmica, è una benedizione che porta con sé un cantico delle creature che preghiamo ogni domenica nella liturgia delle lodi e benedetto il tuo nome. Ecco per il mondo biblico sia dell'antico e del nuovo testamento il nome di Dio è una ricerca fondamentale perché fallire il nome di una persona è fallire la persona stessa, sbagliare il nome è sbagliare l'identità e fallire anche l'esperienza stessa con l'assoluto, con l'esperienza spirituale fondamentale di incontrare Dio. Andiamo alla seconda lettura, come detto il capitolo 13 della seconda lettera ai Corinzi. La parte finale è Paolo quando scrive nelle parti finali compie un qualcosa che riguarda la comunità, compie un'azione parenetica di sostegno che possa essere di aiuto alla comunità stessa. È un linguaggio di affetto, è un linguaggio di comunione con una comunità quella di Corinto che Paolo ha profondamente amato e che ha voluto bene e che difende con le unghie contro falsi possibilità e contro fallimenti e contro anche tensioni su diverse teologie che abitavano quella comunità. Leggiamo l'intero capitolo che quindi ci fa comprendere anche quello che leggeremo domenica. Questa è la terza volta che vengo da voi. Ogni questione si deciderà sulla declarazione di due o tre testimoni. L'ho detto prima e lo ripeto ora, allora presente per la seconda volta e ora assente, a tutti quelli che hanno peccato e a tutti gli altri. Quando verrò di nuovo non perdonerò. Dal momento che cercate una prova che Cristo parla in me, Lui che verso di voi non è debole, ma è potente nei vostri confronti. Infatti Egli fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E anche noi siamo deboli in Lui, ma vivremo in Lui per la potenza di Dio a vostro vantaggio. Esaminate voi stessi se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Non riconoscete forse che Gesù Cristo abita in voi, a meno che la prova non sia contro di voi. Spero tuttavia che riconoscerete che la prova non è contro di voi, noi. Noi preghiamo Dio che non facciate alcun male, non per apparire noi come approvati, ma perché voi facciate il bene e noi siamo come disapprovati. Non abbiamo infatti alcun potere contro la verità, ma per la verità. Per questo ci rallegriamo quando noi siamo deboli e voi siete forti. Noi preghiamo anche per la vostra perfezione. Perciò vi scrivo queste cose da lontano, per non dover poi di presenza agire severamente con il potere che il Signore mi ha dato per edificare e non per distruggere. Per il resto, fratelli, siate gioiosi. Tendete la perfezione. Fatevi coraggio a vicenda. Abbiate gli stessi sentimenti. Vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà in voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ecco, sentiamo l'ultimo versetto. Riporta già in sé una teologia trinitaria, una forma di saluto in Gesù Cristo, Signore, Kyrios, quindi pienamente Dio. L'amore di Dio e il Dio che abbiamo sentito nel nominato in Esodo 34 e la comunione dello Spirito Santo. Paolo ci tiene a quella comunione che è frutto dello Spirito. Molti sono i frutti della divisione. Unico è il frutto dello Spirito che è comunione e comunità. Ed è bello anche questa dimensione che riguarda i sentimenti nel rapporto con il Signore. Siate gioiosi, tendete a quella perfezione che non è una perfezione metallica ma è una perfezione che riguarda la comunità stessa. Una comunità in cui la santità è il nome di ogni persona che partecipa a quella dimensione comunitaria stessa. I santi sono per Paolo gli appartenenti stessi alla comunità. Ed è vero, è una santità che non è ancora fatta di altari, di santi dell'altare, ma è quella santità che cammina all'interno di quella gratuità che una comunità sa donare e sa vivere. Esperienza di santità che tocchiamo con mano quotidianamente. È una lettera quindi che termina con una formula trinitaria e che soprattutto pone l'esperienza fondativa dell'essere comunità come esperienza trinitaria. Ne va della nostra teologia. Se Dio fosse inaccessibile, se fosse totalmente altro, perché la comunità? Perché il nostro bisogno di relazione? Perché, se siamo immagine di Dio, vediamo che quando siamo una monade autosufficiente la felicità non viene permeata. La felicità è la possibilità di relazione piena, è la possibilità di comunione, anche quando in determinati aspetti e situazioni della nostra vita viviamo situazioni di solitudine, che però non è una solitudine esasperata. E arriviamo al Vangelo, al Vangelo di Giovanni, è un Vangelo molto bello ed è anche bello che noi possiamo ritornare. Avviene di notte, avviene di notte a Gerusalemme, lo immaginiamo una notte di vento fortissimo, una notte un po' come questa con qualche temporale, qualche lampo e qualche goccia di troppo, in cui un devoto fariseo, un devoto credente come Nicodemo, va da Gesù di notte. E in quella notte vi è la domanda fondamentale, come si può nascere un'altra volta? Ricordiamo che Gesù aveva appena compiuto un gesto fondamentale lì a pochi passi sul Tempio, aveva cacciato tutti i cambiavaluti e tutti i mercanti del Tempio e aveva gridato non fate della casa del padre mio un latrocinio, non riducete a Dio un qualcosa che riguarda il mercato, l'economia. Riportare Dio non a un qualcosa, a un qualcuno da dover comprarsi, ma lasciate la libertà stessa di Dio. E risponde anche a questo dialogo, il dialogo che avviene tra Nicodemo e Gesù. Infatti leggiamo, Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo si è salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. C'è il mondo. Dio ha tanto amato il mondo. Il mondo non è un qualcosa sempre di positivo, anzi ha una connotazione negativa nel Vangelo di Giovanni, perché indica la struttura negativa delle relazioni, eppure sono amate, sono volute bene, sono queste righe storte che scriviamo luogo di un amore talmente profondo da poter mandare il volto stesso di Dio nel figlio. Dio ama questo mondo, Dio ama queste relazioni negative, le ama con tutto se stesso. E allora il concetto di fede cristiana è che non è una dottrina particolare, tantomeno una morale particolare, neanche un ascesi particolare. La fede cristiana è credere nell'amore incredibile di Dio che Dio ha per l'uomo, ha la passione di Dio per l'uomo. L'amore è fondamentale. Dio ha tanto amato il mondo. L'abbiamo un po' abusato questo termine, troviamo un certo pudore anche a parlarne, diventa un luogo quasi di superficialità. Però il pane dell'uomo è l'amore stesso. Senza amore ogni uomo, ogni donna, ogni bambino si lascia morire. Di egoismo, di odio, di violenza si muore. Per vivere è necessario sentirsi amati ed è necessario amare. E uno può vivere solo se si sa amato dalla sorgente della sua vita. E' vero, è verissimo, l'esperienza fondativa di ciascuno di noi. Siamo quello che siamo stati amati e quei conflitti che ci portiamo dentro parlano dei conflitti che abbiamo avuto con le figure fondamentali, le nostre figure genitoriali, nel bene e nel male. Siamo l'amore che abbiamo percepito e che siamo in grado di rielaborare alla luce di figure fondamentali, quali le figure genitoriali. E Gesù è venuto proprio a toglierci questo peccato che è la cattiva immagine di Dio. Ecco, Dio ha tanto amato il mondo e ha mandato il figlio nel mondo non per condannarlo ma per salvarlo. Troviamo questo Dio che cammina e troviamo una dinamica trinitaria nello spirito e la missione di un padre che manda il figlio. Una dinamica che va oltre il nominare tre persone ma che va appunto nella dinamica di movimento di un Dio trinitario. Il figlio ci insegna ciò che siamo noi, siamo figli nel padre. Ecco, è restituire in quella notte di Nicodemo la figliolanza a ciascuno di noi. Non la servi tu ma la figliolanza e nella dinamica di sentirci figli vi è tutta una dinamica di quella comunione di un Dio trinitario. E questo porta a riappropriarci della figliolanza a riappropriarci di un'altra dimensione fondamentale che spezzerà quelle catene di relazioni che chiamiamo mondo che è la fraternità ricostituita. Nella figliolanza si riscopre anche la fraternità della gratuità. Il figlio ci insegna ad essere fratelli. E' un amore che ama come un figlio unico e Gesù è venuto a dare all'uomo la sua dignità unica, un valore assoluto. Uno vale quanto è amato e questo è il suo prezzo. Noi valiamo la vita di Dio. Valiamo di quell'amore, di tono, di completo dono che viene dato dal figlio. In questa dinamica si inserisce il dialogo di Nicodemo in quella notte. Tutte le religioni sembrano avere come scopo il tener buono Dio che diversamente ci manda all'inferno e ci punisce. Ma è un'immagine poverina di Dio, di un Dio che ci manda all'inferno e ci punisce. Gesù è venuto a sdemonizzare questa immagine di Dio. Ed è proprio la croce che ci guarisce. E come il serpente di bronzo dirà innalzato di cui si è parlato la volta scorsa, ci guarisce dal morso del serpente, così il figlio innalzato ci guarisce dal veleno che ci ammorba l'esistenza. La vita eterna è vivere già qui, ora, da figli e da fratelli, non da padri eterni. Questa è la vita eterna. E uno che non accetta di essere figlio e non si ama come figlio, per sé non è nulla. Fa tanto male a sé e agli altri. Sono le persone delle quali parliamo molto perché fanno tanto, ma nuociono a sé e agli altri. Cercano la loro identità nei danni che fanno nella ricerca del potere, del dominio sugli altri. C'è una non vita che è la morte stessa, che è la violenza stessa, nel non riconoscersi figli. Abbiamo un percorso davvero bello in cui l'immagine è quella di Sant'Agostino che di fronte al mistero della Trinità siamo come dei bambini che contemplano l'immensità dell'oceano, del mare. Ma questo mistero non è un mistero che ci spaventa, è un mistero che ci affascina, è un mistero che porta con sé anche tutta la bellezza di quell'immensità. Possiamo balbettare qualcosa, però sentire che in noi vi è un qualcosa di costituito che costituisce la Trinità stessa. Ci sentiamo pienamente realizzati, ci sentiamo pienamente realizzati quando siamo amati, quando siamo capaci di relazione e in questa relazione vi è già impressa l'immagine e la bellezza di un Dio che è Trinità. E allora buona festa della Santissima Trinità anche riscoprendo quelle relazioni che sono la base del nostro essere cristiani, quelle relazioni fondamentali da custodire e da coltivare insieme come immagine della Trinità stessa nella Chiesa. Buona serata a tutti quanti.